Il layout è lo sfruttamento dello spazio all'interno di un reparto produttivo, dove possiamo trovare banchi di lavoro, macchinari, attrezzature, magazzini e anche depositi di materia prima. Un layout non adeguatamente studiato o ricercato procura sicuramente un risorgere di costi e dispersioni e pertanto anche un allungamento dei tempi di risposta alla clientela. Quindi un layout efficace parte dallo studio del tag time, ovvero dei tempi di risposta che il mercato ci dà, delle fasi di lavoro, dei cicli, della value stream oppure delle attività che devo fare per ottenere quel determinato manufatto e tutto all'interno di un'adatta superficie. Ci sono quindi nuove regole, nuove metodologie che possono essere utilizzate per studiare un layout corretto. Se vuoi ulteriori informazioni, scherzo.